Cari amici di Radio Pugginio NER, è un piacere darvi di nuovo il benvenuto, il bentornati a una nuova puntata dedicata ad uno degli eventi più attesi nel panorama televisivo italiano, il ritorno di Fratelli di Crozza ora nel 2024, questo programma comico che ha conquistato il cuore di moltissimi spettatori grazie alle imitazioni spettacolari e esileranti alla satira intelligente di Maurizio Crozza. Dopo una pausa molto lunga, è già da prima di Natale che lo vediamo in tv, finalmente siamo pronti a vedere nuove puntate che ci faranno ridere e riflettere anche su vicende politiche e sociali del nostro tempo. Il ritorno è fissato dunque per venerdì tra pochissime ore, venerdì 23 febbraio 2024, quando il programma riprenderà con tutta la sua brillantezza sul canale 9 tra pochissime ore. Questa nuova edizione promette di essere ancora più sorprendente e divertente delle precedenti. Crozza ci stupirà con nuove imitazioni di personaggi di spicco, tra cui un ambizioso Janik Sinner che è stato al centro del dibattito recente, un sempre più confuso con perdite di memoria Joe Biden e abbiamo avuto una piccola anteprima che ci ha regalato il 9 di questa imitazione e così anche di un'inedita imitazione di Mara Venier che si trova alle prese con non semplici comunicati da leggere. Come sempre Fratelli di Crozza andrà in onda ogni venerdì sera in prima serata sul canale 9, ma non preoccupatevi se non potete sintonizzarvi in quel momento perché avrete la possibilità di guardare di nuovo lo spettacolo anche in diretta streaming o in replica dunque on demand su Discovery+. Per coloro che desiderano vivere l'esperienza invece dal vivo e assistere dunque in teatro alle registrazioni delle nuove puntate direttamente dagli studi di Milano in via Mestre sarà possibile acquistare i biglietti sul sito ufficiale di Ticket One non appena sarà aperta la vendita. Il costo base per un singolo biglietto è di soli 15 euro. Rimanete dunque sintonizzati qui su Radio Pugino NER per gli altri aggiornamenti su Fratelli di Crozza, le sue imitazioni formidabili di Maurizio Crozza per tutte le ultime notizie dal mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento. Grazie per essere stati con noi perché ci seguite, molti di voi ci seguono da molto tempo e si sono iscritti al mio canale YouTube e vi invito a farlo se ancora non l'avete fatto ad ascoltare la mia musica, a mandarmi i vostri feedback e anche commentare i nostri video così come questo video puntata speciale sulla nuova stagione di Maurizio Crozza. Fatemi sapere cosa ne pensate delle nuove imitazioni che abbiamo visto in anteprima, l'imitazione di Maravegne e quella di Joe Biden. Grazie per essere stati con noi, continuate a seguirci per non perdervi neanche un momento di questa avventura insieme all'esplorazione del mondo dello spettacolo, della musica, dell'attualità, tutto ciò che ci circonda ogni giorno qui su Radio Pugginio Nero.